Grappolo d'Oro 35esima edizione, un'edizione che parte con l'arrivo di due campionissimi del pedale, Ivan Basso e Alberto Contador per parlare di alimentazione nello sport e ovviamente anche per lanciare tutti i progetti che legano il turismo alle due ruote. Alberto Contador a Chiuro in Valtellina per parlare di alimentazione e anche per questo evento del Contador Day. In fin dei conti le due cose sono legate, lo sport, in questo caso il ciclismo e l'alimentazione sono in stretta relazione. Per avere un buon rendimento serve un'alimentazione perfetta. I cibi della Valtellina li conosciamo bene, quei del nostro sponsor in particolare che è di Bormio. I tuoi ricordi legati a questa terra, al Giro d'Italia? Sì, io ho dei ricordi molto belli del Giro, importanti per tutta la mia carriera. In questa terra, su queste salite ho faticato molto ma i ricordi sono davvero belli. Ivan Basso a Chiuro per questo importante convegno sull'alimentazione è molto importante per gli atleti? Molto importante per gli atleti ma non solo per gli atleti. Mangiare bene vuol dire vivere sani e sono molto felice che la squadra che dirigo rappresenti non solo il nostro sponsor Cometa ma rappresenta proprio un valore importante che è quello dell'alimentazione sana proprio per avere uno stile di vita migliore. Grappolo d'oro, non possiamo non chiederti se ci può stare anche un buon bicchiere di rosso? Ci può stare, non sempre, non troppo per i ciclisti. Tiziano Maffezini, sindaco di Chiuro, davvero quest'anno una partenza con il botto per il grappolo d'oro? Sì, per noi è una grandissima soddisfazione perché innanzitutto è una manifestazione alla quale teniamo molto, è una promozione del territorio, è una promozione degli aspetti vitivinicoli di questa valle e di Chiuro in particolare e poter ospitare un evento di questa carattura sicuramente dà ancora più lustro alla manifestazione. Sì, il grappolo d'oro è oramai una manifestazione consolidata, straordinaria devo dire e oggi con questi temi assolutamente importanti, quindi territorio, sport, prodotti endogastronomici. Si sta puntando da tempo sul turismo delle due ruote? Assolutamente sì, il turismo delle due ruote fa parte di quella destasionalizzazione che in Valtellina da anni stiamo cercando di portare avanti. Due grandi campioni, due innamorati della Valtellina, nostri testimonial e qui oggi questo momento importante che è uno dei momenti che fa parte di quello che è la promozione del cicloturismo in Valtellina.